A-S-T-I si da lì tiene, do B-A-D che è chi adesso tiene, in contatto e non funziona bene il microfono, no? Perfetto! Allora vanno da Torino, invece arrivano, non secondo il po' ma l'hip hop key, adesso te lo dico, basic basic, ti già DJ, assieme al B-B-B-B-Boy, sopra il Roo, la 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 la, poi da Canale! Arrivo io con le mie storie, Sly, abita qui ed è così che vivo, in questo paesino, piccino, piccino, un piccolo puttino, a Cuneo, provincia del tartufo e del vino, mi sfogo un attimino, sappiate che anche qua la rima vive vegeta, ed un tipo di spate per comunicare a tutto lo stivale, che anche se qui mi sento solo, non mi lascio influenzare, voglio farmi sentire, ah, lasciatemelo dire! E rimanere così quando ci vedi non ci chiedi, ma siamo noi a domandare, e tu da dove vieni? E tu da dove vieni, ma 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 tu da dove vieni!